Il Meid è venuto qua a fare la sua partita, noi siamo stati bravi a non perdere la testa, la partita ha cominciato in salita perché siamo andati sotto di un gol a fine primo tempo, però era una partita combattuta, una capitata maschia, i miei ragazzi hanno avuto la volontà a tutti i costi di ribaltare il risultato e alla fine anche con un po' di fortuna però ci siamo riusciti. Era una partita questa che visto le condizioni proibitive del campo gli episodi sarebbero stati molto influenti per quanto riguarda il risultato finale, loro sono stati bravi a sfruttare un calcio piazzato all'inizio del primo tempo però non mi pare di aver visto altre occasioni chiare i gol riguardo il Maida, noi invece già nel primo tempo abbiamo avuto un po' di occasioni dove dovevamo pareggiarlo, ci siamo riusciti un po' per fortuna, un po' per bavula del portiere, ma nel secondo tempo i ragazzi comunque hanno preso il campo, sono stati molto bravi, sono stati molto agguerriti e alla fine penso, penso che il risultato, non dico che sia giusto però forse qualcosina in più la meritavamo. è andato in questione. Il merito dei ragazzi è proprio stato questo perché ci hanno preso fino alla fine, io so i ragazzi il valore che hanno, so l'esperienza di alcuni che hanno, che sicuramente non si tirano indietro rispetto a nessuna gara e alla fine comunque penso che il risultato, anche se non proprio largamente, però penso che sia giusto perché la vittoria è venuta proprio perché i ragazzi hanno preso fino alla fine. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.